Buongiorno, ciao a tutti e a tutti e bentornati in un nuovo vlog. Questi giorni mi ha preso a sfornare vlog, quindi sostanzialmente ve li beccate, ma sto facendo un pochino di cose interessanti, mi piaceva comunque rendervi partecipi. Purtroppo l'ultimo vlog che vi ho caricato di Maleficent non lo vedo che è andato benissimo, ma in generale i video che sto mettendo su YouTube perché appunto lo YouTube stesso mi sta un po' oscurando e mi sta dando tipo una sorta di punizione, non ho capito che cosa stia succedendo perché non carico da un bel po' di giorni. Quindi boh, sono scioccata ma allo stesso tempo posso cercare anche di capire, tra virgolette, tra mille virgolette. Comunque, cosa vado a fare oggi? Vado a fare un nuovo tatuaggio. Sapete che io sono amante di tatuaggi, non dico che sono piena perché probabilmente non sarebbe vero, ma ne ho comunque parecchi. Molti a volte mi chiedono quanti ne hai ed è una bella domanda perché effettivamente dovrei ricontarli proprio tutti, tutti, tutti e fare un conteggio. Ma oggi vado a fare un tatuaggio particolare perché è un tatuaggio a tema Halloween. Quest'anno mi ha presa particolarmente bene con Halloween, non che gli altri anni non lo sia stato, ma quest'anno proprio ho una passione forte, forte, forte e quindi voglio fare un tatuaggio halloweeniano. Ho pensato a lungo e in largo quale fare e non potevo scegliere, secondo me, il soggetto migliore. Proprio quando io penso ad Halloween penso anche a questo personaggio. E vediamo se l'ho indovinato nei commenti prima di vederlo dopo tatuato, perché dopo ve lo faccio vedere. Ho l'appuntamento tra due ore circa. Mi sono svegliata con molta calma, ho fatto colazione, ho tenuto un po' la tv. Anche perché oggi mi è venuto, avete capito cosa, quello che viene a noi signorine. Quindi, a parte ad essere esaurita già di mio, spero che non soffrirò di più per quanto riguarda il tatuaggio, con tutti questi ormoni in circolo. Io ho una soglia del dolore altissima, per mia grande fortuna, quindi cercherò di non pensarci. Poi vi faccio sapere. Comunque qui abbiamo il mio cagnolino. Non si stacca un attimo. Dietro abbiamo il tennis fondi che sto utilizzando appunto per girare i mini video, che è leggermente ingombrante qui in camera. E visto che sono qui a parlare, vi faccio vedere una robettina che mi è arrivata nuova da Daniel Wellington e che sono sicura vi farà super piacere sapere. Vi apro qui nel mio armadio e come vedete abbiamo una novità in casa Daniel Wellington. Questa è l'Iconic Link, che è un nuovo orologino. Adesso lo mettiamo qui vicino a Wendy e lo apriamo. Come vedete ha una doppia confezione. Eccola qua, questa è quella classica. Tadam, guardate che meraviglia. Io l'ho scelto in questo colore oro, che non è un oro troppo persistente. È proprio una punta elegante, non pacchiana, ecco. Con questo quadrante bianco. Vi metterò adesso una schermata per farvi vedere le opzioni che avete sul sito e che trovate. E tra l'altro potete usare il mio codice sconto ILA Makeup per il 15%. Non solo su questo prodotto, ma su tutti gli altri presenti. Quindi se vi fa piacere, appunto, trovate tutti i link giù nell'info box. Così potete andare direttamente ad acquistarlo per voi, per il vostro fidanzato, la vostra madre, i vostri amici. Insomma, un orologio per sempre. E questi qua sono fantastici. Mi piace anche a Wendy, eh. Che mentre parlavo si è fatta questa conciatura fantastica. Vado a fare una cosa molto carina, cioè vado a farmi i peli, cioè detto molto così. Io ne ho pochissimi perché sono bionda, tra virgolette, di natura. Cioè, il mio capello fondamentalmente è un biondo cenere, quindi i miei peli sono chiarissimi. Però ne ho due, tre stronzettini, chiamiamoli così. Proprio sulla zona della caviglia che si vedono. Li tolgo molto velocemente. Perché? Perché sono molto indecisa se fare il tatuaggio sulla gamba vicino alla vampira. Che mi ha fatto sempre la ragazza da cui sto andando oggi, cioè Grace. Che tra l'altro è con me, nel gruppo di Cosmify. Insomma, la conoscerete, penso, se seguite un po' il mondo social. E che mi ha fatto anche tantissimi degli altri tatuaggi che ho. Tipo, lei mi ha fatto questa qui. La boccettina di Harry Potter. Il boccino d'oro. La mano della sirena. Mi ha fatto la sirena stessa, le ciglia che stanno di qua. Quindi, il tatuaggio che devo fare o me lo faccio qui. Tra l'altro, guardate quanti ve li ho sul braccio. Ma sulle braccia non li faccio, ragazzi. Perché, chi se ne frega. Ah, mi ha fatto anche il sushi qua. Tra l'altro non vi avevo fatto vedere questo. Che ho fatto qualche... Forse settimana fa. Da un'altra ragazza. Per riempire questo buchino. Ed è troppo chiuta. È un alieno che tira su dei pezzi di pizza. Poi dite che non sono pazza. Comunque, dai, è troppo cute. Non so se fare il tatuaggio sostanzialmente qui vicino o qui dietro. Forse avete visto anche i peli che dovrò andare a togliere. Quindi, niente. Asci un po' così. È il momento che mi trucco un pochino. Voglio fare una cosa molto, molto, molto veloce. Tra l'altro, guardate l'altro giorno. All'anteprima di Maleficent. Mi hanno dato questo circhiettino. Però non posso usarlo per truccarmi troppo. Quindi userò il serato mio di Halloween. Se sentite dei versi strani a mia nonna che parla giù col cane. Sto provando ultimamente dei prodottini nuovi. Che quindi uso per truccarmi giornalmente. Così le proviamo meglio. Allora, prima di tutto metto questo qui. Che ha il lip care della nuova linea di Mulac. Questo è il balsamo, quello classico, normale. Non quello rimpolpante. Magari dopo per uscire metto uno dei due colorati. Perché ce n'è uno che è più sul rosso. E uno che è più sul nude. Come primer non metto nulla. Perché sto provando la nuova CC Cream di It Cosmetics. Che è un brand nuovo. Mi hanno invitato anche all'evento molto recentemente a Milano. E i prodotti sono favola, ragazzi. Cioè ieri li ho portati su per più di 12 ore. Non si erano lucidati. Se non poco, 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 poco qui sulla fronte. Quindi oggi li riproviamo. Così vi faccio vedere anche nel vlog come vengono. Ieri l'ho applicato con il pennello loro. Però ho lavato. Perché io ho il brutto, ho il bel vizio. Ma onestamente devo ancora capirlo. Di usare i pennelli e lavarli subito, subito, subito dopo. Perché più li lasciate lì con i prodotti sopra. Più le setole acchiappano il prodotto. E si formano germi. Quindi io li lavo subito. Tra l'altro ha un profumo magnifico questa BB Cream. Sì, CC Cream, scusatemi. Ieri ne avevo pompata un pochino troppa. Quindi mi è rimasta qui. Ma ne basta pochissimissimissima. Quindi oggi la vado ad applicare con la spugnetta. Però bella, bella. Cioè, guardate quanto è coprente. È una cosa sconcertante. Io utilizzo la colorazione Sair. Che non dovrebbe essere la più più chiara. Ma una delle più chiare. Cioè, guardate che bella. Cioè, mi fa impazzire. Sembra quasi un fondotinta. In realtà vi fa da primer, da trattamento. E da, appunto, fondotinta. In più ha un siero anti-aging all'interno. E la protezione 50+. Non è una sponsorizzazione questa. Sapete che io di quando trovo questi prodotti fa ora. Ve ne parlo sempre. Fortunatamente, insomma, lo sapete. La mia pelle non ha grandissime imperfezioni. Quindi è giusto per camuffare quelle che sono le discromie. Ma guardate. Cioè, qui l'ho messa, qui non l'ho messa. Cioè, vi basta davvero ma un pump per un viso intero. Comunque dopo vi faccio vedere anche il correttore. Quindi scoprirete una magia proprio. Tra l'altro, piccolo PS. Questi prodotti li potete trovare. Da Douglas, sia sul sito, sia ormai anche nei negozi. La ricomprerò sicuramente proprio. Tra l'altro è il mio colore perfetto, esatto. Allora, ieri l'ho applicato, come vi dicevo, col pennello. Mi piaceva l'effetto. Ma io ci ripasso sempre comunque una botticina di spugnetta. Quindi applicarlo direttamente con la spugnetta, secondo me, viene ancora meglio l'effetto. Tadam! Poi ho andato ad applicare il correttore. Si chiama Bye Bye Under Eye. E questa qui utilizzo la 10.5 Light C. C'è scritto così. Questo correttore, vi dico solo che quando ce l'hanno fatto vedere lì all'evento, copriva anche i tatuaggi. Quindi è proprio tanto, vedete, coprente. Ma non so come spiegarvi, non lo sentite pesante. Non ho fatto un video recensione di questi prodotti perché quando tanto mi decido a fare le cose io, poi l'hanno fatto anche già altre mille persone. Quindi un po' mi sembra sempre un po' inutile. Però il video recensione sui prodotti di House, che è appunto il nuovo marchio di Lady Gaga, lo voglio fare assolutamente perché vi devo dire un bel po' di cose. Ecco qui la mia base velocissima. Uso anche la cipria pressata. Si chiama Bye Bye Pores. Ci hanno dato anche un pennello all'evento e lei, la ragazza, ci ha spiegato di fare di questo. Quindi una sorta di pressing e rotazione. La fine è una base molto naturale. Adesso, per finire la base, vi voglio far vedere dei prodottini nuovi. Questi qua sono delle nuove uscite Cosmify in collaborazione con Christian D'Empty, che ha fatto uscire appunto tutti questi trio di prodotti. Questa è una dei blush, questa qui è una delle terre, che è assolutamente la mia preferita. Si chiama Bonjour Contour. E poi questa qui è una di quelle degli illuminanti. Ce ne sono tre per ogni categoria. Appunto le trovate sul sito. Vi lascio, come sempre, insomma, trovate il link qua sotto per andare sul sito di Cosmify. Allora, io inizio sempre prima dal contour. La mia scelta preferita è assolutamente questa qui, che si chiama Monette. E ci metto anche un po' di Chesanne. Spero che si dica così, altrimenti fail. Uso questo pennello di Morphe per Jacqueline Hill, il JH06. Mi sta piacendo un sacco per fare il contouring, perché è molto, vedete, delicato. Quindi voi vi basta un tocco e avete il vostro contouring. Vabbè, queste polveri fanno da sole, eh. Guardate. Tac. Questi prodotti ci arrivano sempre un po' prima, che escano poi sul sito, quindi io lo sto provando già da parecchio tempo. E ogni volta magari mi chiedete, ma che cosa hai su, che blush, che terra? Non posso mai dirvelo! Quindi finalmente sono uscite. E potete prenderle anche voi. Un po' di contouring sul nasino, giusto per ridare un po' di tridimensionalità. E poi uso anche lo stesso pennello per il blush. Questa è una delle mie preferite, che voi direte, ma il giallo in un blush, raga, è favola. Questa qui si chiama Peach Beach. Io utilizzo la colorazione Spell Me. Tra l'altro, guardate che pigmentazione. Cioè, ne basta davvero una sfioratina. Poi dai, finiamo questa demonstration anche con gli illuminanti. Questa qui è la palettina sicuramente più fredda. E utilizzo 2012. Ta-da! Sono molto, molto, molto riflettanti questi. E ok, adesso invece vado a finire il look e poi noi ci sentiamo più tardi. Penso direttamente quando sarò arrivata in studio, così accorciamo i tempi. Guardate gli anellini di oggi. Mi sono messa questo, che è sempre di Daniel Wellington, che è tipo la fedina. Mentre questo è uno di quelli più grossi decorati. Super, super carini. Quindi trovate anche questi sul sito. Sono nella via, dove sta lo studio. Ho parcheggiato un pochino distante, ma almeno vi faccio una camminata a piedi. Quindi, adesso entro e vediamo un po' come iniziamo. Ecco, c'è lo studio. Guardate che figo. Si inizia. Ecco quello che stiamo per fare. Riconoscete qualcuno? Sì ragazzi, mercoledì, Adams era nel mondo. Le linee sono state fatte ragazzi, è perfetto. Adesso aggiungiamo dettagli e un tocco di colore che poi vi faccio vedere meglio. E poi ve lo faccio vedere meglio. Eccomi di ritorno a casa. Che cagnolino che stava dormendo, è vero? Devi fare la nina. Devi fare la nina. Io appunto sono tornata, ho fatto una merendina velocissima perché sono andata lì a Luna, mi ero mangiata gli snack, quelli di Fitvia, che tra l'altro mi sono anche ritornati perché li ho ordinati. Anche questo hanno sponsor, ho pagato io belli. Quindi mi ero mangiata quelli lì e poi basta, sono tornata adesso che sono le 6. Ci abbiamo messo un po' ma noi facciamo anche un bel po' di pause. Ho fatto una merendina ed eccomi qua. Adesso vado su e mi metto anche un po' al computer a fare cose. Comunque vi dirò, questo tatuaggio dolore verso la fine forse o quando applicavo il verde. Per il resto proprio zero. Però vi ripeto, io magari sono un caso a parte perché anzi c'era un momento che mi stavo rilassando, chiudevo gli occhi e facevo così. Così. Stupendo, meraviglioso. Dopo quando lo sciacquo ve lo faccio vedere meglio. Vi metto anche il tag di Grace qua sotto così se volete vedere il suo profilo potete andare. Niente, adesso mi segnala batteria scarica, quindi io direi di muovermi. E intanto parliamo, insomma, dopo. E vado a vedere se mi è arrivato anche qualche altro pacchettino perché di solito mia madre o mio padre me lo mettono sotto il letto. Piccolo PS. Ho ricevuto delle belle notizie mentre ero a fare il tatuaggio, leggevo il telefono, email, cose. Quindi se dovesse succedere che va in porto quello che ho letto, voi non avete idea. Ve la butto lì così, così. Cioè, vedete, quando ne ho sessionato ho questa busta piena degli snack di Fitvia comprati da me, ve li ripeto. In più stavolta ho fatto l'ordine e c'erano questi in regalo, insieme alla bottle e al coconut slim tea che regalerò a mia cugina. Io dove le tengo queste cose? Nell'armadio. Guardate là dietro tutti i biscotti. Perché non so dove metterle, se no, come vi ho spiegato nell'altro vlog di Maleficent, i miei, mia sorella, si mancano tutte le mie cose. Questa è la nostra mercoledì Adams. Come vedete si è leggermente gonfiato il braccio. Appena finito di mangiare mi sono mangiata una lenticchia che mia nonna mi aveva fatto a pranzo, ma non c'ero. Quindi l'ho mangiata adesso, sto lavorando ad alcuni progetti che vedrete presto qui su YouTube, che sono in collaborazione con un marchio con cui lavoro già da tempo. Quindi stiamo preparando un pochino di cose. Vi dico che io pensavo di non riuscirci dopo i 31 look su Instagram, ma ne arriverà anche uno qui su YouTube molto speciale, che sono sicura vi piacerà tanto. Adesso mi sto passando i video che ho fatto con il telefono mentre mi tatuavo sul computer. Yes, fatelo sempre qua airdrop così non vi abbassa la qualità. Io mi sto trovando da Dio ultimamente. Spuntino con dei biscotti che non sono quelli di Fitvia. Purtroppo, come vi ho detto, sono in quel periodo dove non mangi male, non mangi male. Diciamo che è un po' una scusa, un po' no. Però oggi ne avevo proprio bisogno. Però io per oggi, ecco, vi saluto. Vi faccio vedere il tatuaggio, visto che l'ho lavato. Solo che non so dove poggiarvi. Forse è qui dove eravate stamattina. Eccolo qui. Ah, come vedete, qui avevo questo. Che tornassi indietro non farei, ma vabbè. Poi magari se la riaccendi la luce che sei un attimino meglio. L'ho lasciato un po' senza pellicola, senza crema, dopo averlo lavato. Così si è tolta la patinina, quella brutta, schifosa. Per più di una mezz'ora in realtà. La mia aveva detto almeno mezz'oretta, quindi adesso l'ho rimpellicolo. Perché praticamente lei mi fa fare... Me lo lascia impellicolato finché non spurga bene il colore. E poi ci metto la crema. Perché ho notato, infatti, quando non facevo questo metodo, che arrivati a questo punto, quindi dopo qualche ora dal tatuaggio appena fatto, andavo a lavarlo, poi quello spurgava, ma io sopra ci mettevo la crema e uno non si attaccava alla crema, cioè non penetrava proprio. E si faceva una pappettina che quella non permette alla pelle di respirare. E il tatuaggio vi guarisce dopo secoli. Invece facendo così il tatuaggio guarisce molto prima. E rimane molto più vivido. Quindi chi vuoi chiedete sempre al tatuatore, però io mi trovo benissimo così. Quindi adesso ci rimetto la pellicola, però volevo farvi vedere i dettagli della faccia. Cioè, i dettagli della faccia sono impressionanti. Guardate che meraviglia. Cioè Grace è una roba... Una forza. Abbiamo aggiunto questi dettagli verde acido, che sulla mia pelle è bianca, cadaverica, rimarranno verde acido, quindi è stupenda. Adesso da una parte ho lei, dall'altra ho lei. Quindi i miei mood, proprio, guardate, sirenetta tutta colorata, gioiosa e dall'altra la socialità, proprio. Adoro, non ci avevo fatto caso fino ad adesso. Quindi io sarò ancora al computer per un po', sono le nove e mezza, dai. Si può fare. Ci sentiamo presto, presto, presto. Spero questo vlog vi sia piaciuto. Vi ripeto, trovate tutti i link che vi ho detto nel corso del video qua sotto. E vi mando un grosso bacio. Ciao.